Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video che inizierà come recensione di una macchina molto particolare ma finiamo a fare cose di Halloween, come avete letto da titolo, molto molto carine. Ma andiamo con ordine. Un incisore laser con la scatola delle dimensioni di quella di una stampante 3D. Eh sì, perché questo qua è l'incisore laser penso più potente che io abbia mai provato, di quelli a diodo. È proprio il tier massimo della tecnologia dei laser a diodo. Questo è l'Atomstack X20 Pro, non mi ricordo se è Pro. Comunque è l'unico laser che combina quattro laser, perché è l'unico modo per arrivare a delle potenze così alte con dei laser a diodo. Combina quattro laser diversi, quindi vengono emessi indipendentemente quattro laser, poi con un sistema di specchie leve vengono collimati e vengono allineati in un unico fascio, che quindi è la somma di tutti e quattro, e riesce a essere 20-21 Watt, quindi 20 Watt abbondanti di potenza luminosa. Pannellino di acciaio per proteggere il tavolo, ma io ho anche il nido d'ape. E questo è il nostro... cose varie. Uh, abbiamo anche il gas assistant. Penso air assistant, nel senso penso sia semplicemente un compressore. Ah, regolabile anche, figo, ok. A quanto pare c'è un'applicazione, questo non lo sapevo, ma è molto molto interessante, perché me lo trasforma in una laser packer. Cioè, qualsiasi laser che abbia un'applicazione, se fatta bene, diventa incredibilmente più convenient, più comodo da usare. Un librone delle istruzioni da 158 pagine, chiaramente perché è in più lingue, ma... C'è anche l'italiano, molto bene. Occhiali belli, grandi e di qualità. Ah, e... stanghette allungabili. Tec. Sopra la media come occhiali. E poi ci sono un sacco di cose nascoste, tra cui vi mostro solo che questo dovrebbe essere... Cosa vuol dire? Ma è le dimensioni di questa roba? Io non ho mai visto un laser di queste dimensioni. Guardate, ho staccato quello del Creality per confrontarlo. E già questo qua, secondo me, ne combina due. Non ho... Cioè, è assurdo sta roba. E se lo vedete per dentro è tipo tutto fatto a pezzettini, forme strane, ma proprio perché ci sono quattro laser che vanno nelle direzioni ognuno per conto suo e dopo alla fine si uniscono. Abbiamo qua sopra l'input per l'aria, perché abbiamo l'air assist integrato. C'è l'assistenza di soffiaggio dell'aria per quello che nelle istituzioni chiamavano gas assist. Serve per evitare che i tagli vengano bruciati, perché soffiando un getto di aria molto forte dove il laser colpisce, tieni il legno dove non viene laserato freddo e quindi non prende fuoco e comunque evita di fare quelle fiammelle, quelle robe marroncine, sfigato. Cioè, è bellissimo! Poi abbiamo il tubone per l'air assist, pennellino per pulire i pezzi di legno, display, alimentatore, poi un paio di spranghe, altri pezzi metallici, il montaggio ve lo risparmio adesso. E con questi si completa il telaio. Tre zampe, la quarta sarà il display, accessori, accessorietti, un bruttissimo cavo HDMI che connetterà il display, ma non viene usato come HDMI, ma viene usato solo come bus di dati e odio questa cosa, perché i cavi HDMI sono super fragili. Materiali da tagliare, brugole, pulegge. Poi abbiamo, ah eccolo qua, qui abbiamo l'unità centrale con il panic button, bellissimo, bellissimo! Guardatelo di questo rosso color alluminio aviazione, busantino di reset, on off, e tutto il resto lo facciamo dal display. C'è un'antenna wifi che non capisco perché sia posta dal lato interno. E poi, ah ah, dulcis in fundo, se riuscissi ad estrarlo dalla confezione. Guardate un po', abbiamo questo gigantesco modulo che è proprio l'air assist. Questo qua è un compressore di aria con questo nozzle che è l'output, quello da dove sputa, diciamo. Questo qua è chiaramente per l'alimentazione, la ventola, le cose. E soprattutto è dimmabile, se vedete ha un bellissimo click, sembra uno stereo vecchio. Fa prima un click e dopo si può alzare o abbassare il volume, no? In realtà è il flusso di aria. Sul canale ne ho montati decine, quindicine, dozzine, non lo so, di laser. E siccome sono tutti uguali vi risparmio il montaggio. Mi basterà assemblarlo schioccando le dita. Bello, abbiamo i sacchetti divisi per step, manuale comunque piuttosto completo. Ah, e poi abbiamo un cavo sdoppiatore che alimenta lei, lui, e dalla femmina qua prende corrente. Tu vicino. E voilà, era delle transizioni, guardate qua, è montata. Signori, allora, è bellissima, è fighissimo vedere un laser così grosso. Sarebbe figo un domani smontarla e farla più grande. Tanto costa il CNC laser, cioè basta che prendi dei pezzi di alluminio più lunghi e la fai lunga quanto vuoi. Certo che con 800, 850 euro di macchina, perché costa. Eh, dannazione! Il nido d'ape potevano darcelo, perché Atomstack lo produce. Io questo qua ce l'ho, ma ce l'avevo per i fatti miei. Non lo danno in confezione. Ci danno solo il pannellino qua di metallo. Bello, ma non ci vivrei. Nel senso, serve avere lo spazio sotto anche per scaricare i fumi, per dare respiro al materiale. Non lo so, potevano sprecarsi un po' di più. Così come potevano, dannazione, in 158 pagine di manuale di istruzioni, non c'è una tabella delle velocità. Ok, siamo maker, possiamo fare esperimenti, possiamo scoprire il divertimento, le cose. Però se mi indicavano la velocità era più bello. Problema numero 3, è molto molto rumorosa. È rumorosa sia la macchina sia il compressore. Vabbè, il compressore è chiaramente rumoroso, è un coso del genere. Però è più rumoroso di quello Creality, per dire. Però sentite un po' che roba? È allora al massimo, eh? Ok, però. E questo è solo il compressore. Il laser stesso fa un disastro. Perché deve raffreddare 4D, chiaramente, poveraccio. Cioè, fa tutto questo rumore perché è potente. Eh, non ci possiamo fare niente, purtroppo. Vogliamo il quarto problema? Perché un prodotto destinato al mercato europeo deve avviarsi in cinese? Yeee, inglese! E per fortuna che non è una stampante 3D, per fortuna che abbiamo soltanto un tasto incidi e un tasto impostazioni, che almeno è stato facile trovare quello giusto. In Cidi non c'è la scheda SD, sulla quale ho messo un piccolo G-code che ho appena creato mentre schiocavo le dita, che contiene sei cerchi, tutti fatti a potenza 100%, ma progressivamente con velocità più lenta. Partiremo a 600 mm al secondo per poi fare 500, 400, 300, 250 e poi 200 mm al secondo. Quindi sempre più lento per capire a che velocità riusciamo a bucare un centimetro di compensato. Se vi ricordate altri laser che nominalmente erano molto potenti, non sono nemmeno stati in grado di tagliarmelo questo compensato da un centimetro. Non benissimo, anche perché poi è tutto giallogno, tutto bruciacchiato, sempre delle callarroste. In teoria con l'Air Assist e con un laser più potente dovremo ovviare questo problema. L'ideale sarebbe avere un laser a CO2 da 100 Watt, perché evapora il legno all'istante, solo nel punto in cui deve, e non lascia neanche il tempo al legno di prendere fuoco. Ma i laser a CO2 sono molto costosi, sono infinitamente delicati, devi collimare gli specchietti, è un cesso. Ne parleremo in altri video, perché ho un laser a CO2 nascosto qua alle mie spalle. E costano comunque, costano migliaia di euro. Questo è il massimo della potenza che possiamo avere da un laser a diodo, e quindi sono proprio curioso di capire questa tecnologia dei laser accessibili, dei laser consumer, fino a quanto si può spingere. E visto che questo oggi, assieme a voi, è un video un po' più rilassato, vorrei profitarne per spendere due parole anche sulla sicurezza di questi laser a diodo. Perché è molto importante fare un discorso di come ai cinesi piaccia fare le cose un po' a caso. Allora, sono un po' di anni che si stanno diffondendo questo tipo di laser aperti. Che sia Atomstack, che sia qualsiasi altro brand, sono tutti uguali. Un telaio, fatto così, a forma rettangolare. Un laser icchio che si muove sui due assi. Qualche pulsantino, un'interfaccia. Sono tutti identici. Poi c'è il laser più potente, il laser meno potente. Quello con le Rassist, chiaramente, una marca all'altra. Ma sono estremamente pericolosi i laser del genere. Sia perché c'è il laser allo scoperto, cioè questa cosa qua ti può proprio fare evaporare... Come fai a evaporare il legno? Ti fai evaporare anche le cellule della retina, della cornea, non so quale parte di occhio perché non sono un medico. Però lo fa, e lo fa in maniera casuale perché magari ti riflette su una superficie di metallo, spara laser in giro. E ti danno, certo, dei pezzetti di plastica colorata da metterti davanti agli occhi, ma non mi fiderei più di tanto. E poi, boh, può passare un'altra persona nella stanza, un animale domestico. Questi sono macchinari estremamente pericolosi e delicati. Cioè, delicati come utilizzo, nel senso da usare in un ambiente controllato e in una maniera professionale. Primo problema, quindi, il laser stesso alla vista. Secondo problema, i fumi. E qua è tutto all'aperto. E finché taglio legno così, compensato, vabbè, non c'è tanto problema. Però questi laser possono tagliare il plastica, ad esempio. Possono tagliare il plexiglass colorato e fare cose fighissime. Ma il plexiglass colorato è cancerogeno, come tutte le plastiche bruciate. Wow, che sorpresa! E l'Erasith sofia via, certo, ma non è un sistema di aspirazione dei fumi. Quindi il consiglio è, se prendete un qualsiasi laser di qualsiasi tipo, sono divertentissimi, sono degli oggetti fighissimi da avere. Ti permette di creare un numero infinito di progetti. Puoi tagliare il legno, incastrare le cose, fare le scatoline, i mobili. Puoi proprio farci di tutto. Combinato con la stampa 3D, proprio ti rende un maker a tutto tondo, che può proprio creare oggetti del mondo fisico, anche grandi, anche robusti. E sono un grande fautore dei laser. Ne ho sempre almeno uno in casa, perché poi chiaramente un po' li vendo, perché me ne arrivano troppi. Ma me ne tengo sempre perché è comodo averli. Anche per la macchinetta del Caffè Smart ho fatto dei pezzi tagliandoli con il legno, con il laser. Anzi, guarda, c'è proprio il buco qua. Però, per favore, trattateli sempre con il dovuto rispetto, timore, perché è un laser potente e danneggiante. E numero due, fatelo all'aperto, se possibile. Se non avete da farlo all'aperto, compratevi un enclosure, oppure usate la macchina sul balcone per una o due volte, mentre usate la macchina stessa per ritagliarvi da del plexiglass o da del compensato un enclosure. Quindi potete anche costruirvele alla bacheca. Basta che non vi respiriate il disastro di fumi che derivano dal tagliare plastiche, ma anche da tagliare certi legni, materiali compositi strani, che sono tenuti insieme da resine o colle strane che non fanno benissimo. Insomma, ok, ci tenevo. Proviamo i nostri cerchi. Allora, incidi, prova cerchi. Facciamo che il compressore lo accendo dopo. Posso farmi mostrare il frame e attraverso il vetrino vedo già il punto del laser che dovrei aver messo a fuoco utilizzando semplicemente questo attrezzo per fare da spessore e mi mostra dove andrà a fare i cerchi. Mi va bene? Va, può andarmi bene in realtà. Dìa! Quanti passaggi? Uno solo, vai? Ok, ok, ok. Ah, il compressore! Raga! Non so se lo vedete, ma con due passaggi, ma già alla velocità più veloce di tutte, abbiamo sfondato un centimetro, ma a 600 mm al secondo. E tra l'altro, guardate, questa è la prima parte del taglio dove non avevo ancora acceso il compressore e dopo da quando l'ho acceso, guardate che preciso, guardate che netto. Ok, devo sistemare il G-Code? In realtà sarebbe sicuramente più facile usare il laser direttamente connesso al computer e comandarlo dal computer invece che fare avanti e indietro con la scheda SD. Occhiali, incidi, prova numero due, mostrami dove la faresti. Un po' più in qua. Va benissimo. Un solo passaggio, accendo subito le Rassist e via. Ok, allora, a parte tutto, a parte tutto, io non ho mai visto dei tagli così netti, così precisi. Che bello! Ti svolta la vita la Rassist. Allora, sì, avevo sbagliato io. In pratica qui ha fatto quattro passaggi a 600 mm al secondo e non è ancora uscito del tutto. Qui ha fatto cinque passaggi a 500 mm al secondo e il pezzo è totalmente fuori. Questo era un passaggio a 400 e chiaramente non è abbucato. un passaggio a 300, un passaggio a 250 e un passaggio a 200. Tutti con potenza 100%, però questi qua con più passaggi, c'ha guardate la precisione nel tagliare un centimetro di legno. Sono troppo contento. Allora, tra un attimo ci dedichiamo a fare cose allovinose, ma, visto che, secondo me, la grande figata di scenario di utilizzo di un macchinario del genere è oltre che per il maker privato che fa i suoi lavoretti, le sue costruzioni di oggetti per i fatti suoi, è anche per le piccole aziende chi vuole creare articoli di decoro o anche articoli funzionali, pezzi, ingranaggi, cose carine, non solo taglio ma anche incisione, mi immagino incisioni di tutto il deck di uno skateboard. E in quanto piccole aziende gli tornerà sicuramente molto molto comodo lo sponsor di questo video che è Fiscozen, un servizio che io personalmente uso da tempo in memoria, no, dall'anno fiscale scorso. E cosa fa? È un team di consulenti, sistema di gestione della partita IVA, delle fatture, compreso di fatturazione elettronica, le scadenze, gli F24, le tasse da pagare, insomma tutto quello che normalmente farebbe il classico commercialista di persona. Io da quando uso Fiscozen non ho più il commercialista vecchio, quello di persona insomma, perché tanto per qualsiasi dubbio o domanda mi venga, gli scrivo al volo in chat, eventualmente se è un problema più complicato mi telefonano. Dopo il lunedì scorso abbiamo fatto 10 minuti di telefonata con i consulenti di Fiscozen per una domandina che avevo e che mi hanno risolto senza problemi, sono super preparati e quindi tra le consulenze e le domande che gli puoi fare e le risposte giuste che ti danno che in Italia dove tutto è molto interpretativo serve anche chi interpreta le cose nella maniera giusta. E il fatto che ho una piattaforma unica con una grafica fatta bene, curata e intuitiva per gestire tutte le fatture e fare addirittura le previsioni delle tasse cosa non indifferente. Calcola i limiti del forfettario ad esempio quanto puoi ancora fatturare prima di sforare dal regime forfettario o quelle cose là. In più per quanto riguarda le tasse e l'IMS i contributi vari ti trovi già all'interno di Fisco Zenit i tuoi F24 è tutto così figo e così comodo e se lo uso da tempo ci sarà un perché e soprattutto se usate il link in descrizione per iscriversi sulla tarifa annuale che già è assurdamente bassa rispetto a quella che è un commercialista classico perché sono sui 300 euro all'anno se usate il link in descrizione potete prenotare una consulenza gratuita così se avete qualsiasi tipo di domanda avete la consulenza gratuita e avete poi 50 euro di sconto sulla tarifa del primo anno immagino vi iscriverete per l'anno fiscale 2023 fatelo piuttosto velocemente visto che adesso sono proprio i mesi perfetti prima dell'inizio del nuovo anno 50 euro di sconto per voi oltre alla consulenza gratuita con il link in descrizione signori grazie a Fisco Zen non solo per lo sponsor di questo video ma anche per essere il mio la mia piattaforma di riferimento e il mio commercialista tra virgolette da un bel po' di tempo a questa parte torniamo a laserare cose quindi rifacciamo al volo i nostri cerchietti più lenti un solo passaggio ma saranno 200 180 160 150 40 e poi 25 allora partiremo da qui Air Assist occhiali and go non capisco perché faccia 4 giri probabilmente sbaglio io qualcosa con Lightburn perché continua a farmi 4 giri per ciascun cerchio quindi con 4 giri e velocità così lente me lo taglia tranquillamente è compensato da un centimetro comunque da scheda tecnica questa qua fa compensato da 14 mm quindi quasi un centimetro e mezzo ci posso credere tranquillamente plexiglass soprattutto se colorato da 0.8 quindi quasi un centimetro e dicono addirittura che può tagliare acciaio inox ma poi danno uno spessore di 0,05 mm che sarebbero 5 centesimi di millimetro che sarebbero 50 micron che se boh è poco utile però può incidere materiali come il vetro e quello è fighissimo e magari lo faremo come coso di Natale con il laser a diodo potete tranquillamente incidere il vetro dei bicchieri ma oggi non è Natale è Halloween e quindi non è vero non è ancora però fatemi allestire un attimo eccoci qua ho aggiunto del compensato da 3 mm signori ve l'ho già spoilerato prima la nostra prima Halloween cosa è una piccola ragnatela sarà interessante perché è tipo molto vuota essendo una ragnatela e quindi sarà molto leggero come pezzo di legno e forse un po' fragile ma vediamo ho già posizionato il laser sul punto di partenza incidi ragnatela e godiamoci lo spettacolo ah allora una ragnatela un pelo baggata e gli occhi del ragno li ho incisi con trova potenza decisamente sarebbe bastata infinita meno potenza e soprattutto di allineare giusto il pezzo di legno perché sono finito fuori dall'inquadratura vedete qua in cima che la ragnatela non è completa ma che figata è assurdo tenerla in mano è di una leggerezza disarmante allora in realtà avrei voluto fare questa scatola zucca guardate che figata ma quasi quasi voglio fare la ragnatela fatta bene invece e dico invece perché purtroppo ho una quantità di legno in casa limitato magari faccio un paio di queste ragnatele ma fate bene serve infinitamente meno potenza di quella che ho usato adesso vabbè carico l'altra fotocamera incito due ragnatele e ci vediamo per il verdetto allora 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 gli occhi dannazione niente mi si sono cambiati di colore per sbaglio gli occhi su lightburn cioè hanno cambiato tipologia di layer e quindi sono diventati taglio invece di incisione e quindi purtroppo gli occhi sono ritagliati ma ci sta perché avendo il doppio layer di occhio cioè la parte esterna e poi le pupille magari ne approfitto del fatto che la parte esterna sia ritagliata per reincollarla ma un po' più indentro in modo che resta proprio il gradino e si vede non so mi piace come idea qui ho tagliato a potenza 100% sono 600 mm a seconda di velocità tec guarda che roba sia davanti sia dietro senza nessun segno di bruciatura ragazzi questo qua è proprio il livello finale dell'incisione laser a diodo almeno guarda che bello guarda che sottile il filo che tra l'altro il ragno ballonza addirittura da quanto è sottile ed è legno però è compensato boing bello 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 adesso gli rimonto gli occhi mentre voi mettete il pollice in su al video se il video vi è piaciuto andrò a comprare compensato aggiuntivo nei prossimi giorni in realtà penso già oggi perché devo fare dei pezzi entro il weekend quindi la userò abbondantemente e vi farò i video su instagram e con i pezzi di legno aggiuntivi entro halloween potrei anche fare la zucca che avete visto e che comunque vi lascio il link in descrizione se volete farla per i fatti vostri per questo video è tutto pollice in su tanta roba cioè è tanta roba perché sono 4 laser da 6 watt ciascuno combinati 21 watt di potenza luminosa effettiva e corri tagli e con le Rassist fai il lavoro pulito ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti